Grazie, grazie a tutti. 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 L'urlo praticamente è una concentrazione fra qualcosa che è detto di te che viene fuori, è un ricarico di energia praticamente. Mostrare una tecnica applicata sulla tavola, un calcio girato laterale. Non sempre si è un calcio girato. E' un calcio applicato con la parte posteriore del piede, questo colpo di solito viene ingerato sulla tinta dell'avversario. Grazie a tutti.